I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, coadiuvati dai colleghi della stazione di Saltara e Monte Porzio, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di marijuana un trentenne di origini pugliesi disoccupato. L'uomo era stato arrestato non meno di due mesi fa per lo stesso reato, commesso nella zona del Pincio e della stazione delle autocoriere. Da qualche tempo però il trentenne aveva iniziato a spostare la piazza di spaccio nei pressi della sua abitazione, nella prima periferia a sud di Fano. Agli uomini dell'arma è bastato un breve servizio di appostamento per coglierlo sul fatto, mentre consegnava a due giovani, di cui uno minorenne, due bustine con 20 grammi di marijuana. I tre sono stati subito bloccati nel più classico dei modi, subito dopo lo scambio. Infatti il giovane pusher aveva ancora tra le mani i 195 euro in banconote di piccolo taglio ricevuti dall'acquirente maggiorenne, il quale aveva appena messo in tasca la dose comprata. La perquisizione nella vicina abitazione del pugliese poi ha permesso di recuperare, in un apposito incavo ricavato dietro al forno della cucina, altri 36 involucri di marijuana, uguali a quelli sequestrati poco prima, oltre a tre bilancini di preciusione e da tutto l'occorrente per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. In totale i carabinieri hanno sequestrato al trentenne oltre 400 grammi di marijuana che gli avrebbero fruttato, dallo spaccio al minuto, almeno 4.000 euro. Il giovane, a seguito del precedente arresto, aveva ancora in atto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla stazione dei carabinieri di Fano. Pertanto, su disposizione del procuratore della Repubblica di Pesaro, per lui si sono aperte le porte del carcere di Pesaro. Per i due giovani acquirenti invece è scattata la segnalazione alla prefettura di Pesaro quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.